Parliamo di dati invalsi che continuano, anche se leggermente migliorati, a deludere. In Italia tantissimi, circa la metà degli studenti, hanno carenze nelle materie umanistiche, ma soprattutto materie STEM e materie scientifiche. Rusconi, perché non riusciamo a migliorare l'apprendimento? Quest'anno abbiamo appreso che ci sono stati dei miglioramenti sia pur lievi e questo sicuramente è un dato positivo. Il problema grosso della risoluzione delle difficoltà dei nostri studenti nelle materie soprattutto scientifiche e soprattutto nel sud è un problema complesso che abbiamo da decenni. Quali sono le ricette? Adesso le enuncio come se fosse qualcosa praticabile da domani. Devo dire che il Ministero ce la sta mettendo tutta per cercare di risolvere questa situazione, che però richiederà molto tempo. In quanto non sono problemi che si possono affrontare in uno o due anni, ci vorrà un bel po' di tempo. Naturalmente l'importante è che ci sia da parte del decisore politico la volontà e la capacità di intervenire adeguatamente. Quali sono queste ricette? La prima, secondo me, è la preparazione dei docenti. I docenti devono avere una preparazione più adeguata, con maggiore capacità di interessare, di incuriosire. Edgar Morin diceva, che sappiamo essere ancora vivo per fortuna, ha una buonissima età, diceva che spesso la scuola spegne qualsiasi curiosità degli studenti. Ecco, se lo dice lui poi che vive in una realtà come quella francese, diciamo di buon livello, possiamo crederci. Ecco, gli insegnanti devono essere preparati e questo vuol dire una maggiore capacità da parte delle istituzioni, che possono essere quelle ministeriali, gli uffici scolastici regionali, ma anche le associazioni di categoria, per far sì che soprattutto ci sia una capacità di intervento sulle materie scientifiche che diventino appetibili. Il secondo punto è che bisogna combattere contro l'opinione pubblica. Troppo spesso noi abbiamo visto anche personaggi importanti che in televisione, politici, attori, persone di vario tipo, chiaramente non gli scienziati, che battendosi la mano sulla fronte dicevano, eh, andavo talmente male in matematica, così, eccetera. Cioè è come se fosse un disvalore essere invece una persona che ha sempre apprezzato la matematica. Ci vogliono poi più corsi di formazione anche integrativi per gli studenti. Noi da anni sosteniamo che ci debba essere una sorta di curriculum flessibile in molte nazioni europee o dell'Ocse. Noi abbiamo questa iniziativa che ormai dà decenni. Che cosa vuol dire? Vado piuttosto bene in matematica. Faccio il primo anno il biennio delle scuole superiori. Ho meno necessità di approfondimento di matematica. Vado invece piuttosto male, devo avere delle ore aggiuntive. Ecco, il curriculum flessibile, che era stato messo in campo a suo tempo anche da due ministri, uno di centrodestra, uno di centrosinistra, non ha mai decollato. Perché? Perché sconvolge un po' l'ordine, mi permetto di dire, impiegatizio della scuola. Tante ore, col giorno libero, tutto ben preciso. Mentre invece il curriculum flessibile impone che ci sia appunto un professionista che naturalmente sa che deve dare del tempo la mattina, lo deve dare anche del pomeriggio e così via. Per fare tutto questo, sapendo poi che la maggior parte degli insegnanti sono donne, ci vogliono stipendi più adeguati. Ci vuole soprattutto una rete di servizi sociali, perché non si può chiedere a un insegnante magari brava di matematica, che ha pure due bambini, ha genitori anziani che tutto il giorno stia a scuola. Perché poi, se non ha i servizi sociali, cosa fa? Lo stipendio lo spende per la babysitter o per una badante. Ecco, ci sono problemi molto complessi. Per la prima volta, diciamo, da almeno due o tre anni ci si sta un po' provando. Ripeto, è un problema a lunga scadenza, ma io ho fiducia che possa essere risolto. Di qua, probabilmente, a cinque o dieci anni. Non se ne vedranno immediatamente le soluzioni positive. Lusconi, lei insegnava materie discipline umanistiche, tra cui il greco, e non è forse la persona più indicata. Però rimane il fatto che bisogna cercare di migliorare l'insegnamento, l'approccio con la matematica, la fisica, che continuano a essere bestie nere. Ma quale consigli possiamo dare a questi insegnanti? Beh, l'insegnante, anche di un liceo classico, non parliamo dello scientifico, dove c'è molta matematica o dei tecnici, deve saper appassionare. Io ho avuto degli insegnanti, nella mia lunga carriera di presidi, di matematica e fisica. C'era veramente la fila dei genitori, perché i figli, appena si iscrivevano al primo anno, potessero andare con l'insegnante X. Ed era un insegnante rigoroso, un insegnante che rimandava a settembre, che in qualche caso bocciava, ma era un insegnante che aveva una capacità veramente di tirar fuori dai ragazzi quella curiosità verso le materie scientifiche che è fondamentale. Ecco, io continuo a dire che la curiosità intellettuale è quella che deve caratterizzare i nostri ragazzi, prendendo spunto anche da tutta una serie di esperienze che abbiamo già anche in Italia, ma che sono magari più diffuse in nazioni, come posso dire la Francia o la stessa Germania. Continua, persiste il gap nord-sud a livello di apprendimento. Vi sono dei territori dove, al di là delle valutazioni, anche delle lodi con cui escono, ricordiamo la Puglia, insomma, i ragazzi sulla carta molto formati, poi però i dati invalsi e anche gli Ox e Pisa parlano chiaro che mediamente c'è un apprendimento molto più deficitario. Anche da questo punto di vista cosa si può fare, quali consigli si possono dare agli insegnanti, diciamo anche a livello nazionale, a livello ministeriale, all'amministrazione scolastica di Viale Trastevere? Noi partiamo un po' da un presupposto. In varie, diciamo così, indagini che sono state fatte è venuto fuori che il nord-est in Italia è molto sviluppato, non solo dal punto di vista economico, ma anche dalle strutture che danno input, che danno sollecitazioni ai ragazzi perché appunto si possano inserire a pieno titolo. Basti pensare al Veneto, ancora più al Trentino e all'Alto Adige. Ecco, il discorso della mancanza di un'adeguata preparazione in molti studenti nel sud dipende anche dal fatto che nel sud ci sono delle condizioni, direi non solo economiche, ma soprattutto socioculturali, meno intense, non dappertutto, perché poi sappiamo per esempio che nella zona di Napoli o anche della Calabria ci sono delle eccellenze a livello nazionale, per non dire europeo. Dobbiamo investire moltissimo sugli insegnanti, dobbiamo fare in modo che soprattutto gli enti locali, che hanno appunto una buona fetta di finanziamenti, investano anche loro sulla formazione. Se uno va a fare il paragone, come a me è successo anni fa, dovendo fare appunto un lavoro in Polonia con l'ISFOL, se uno va a vedere i soldi pro capite che mette una regione del nord rispetto a una regione del sud in linea di massima, vede che c'è un forte gap, una forte differenziazione. I fenomeni, naturalmente, ripeto, sono fenomeni a lunga scadenza, dobbiamo poterci credere, non dobbiamo mai gettare la spugna, però, ripeto, da un po' di anni si sta investendo un po' di più nel sud. Per esempio, quest'anno, vedere che quasi un milione di studenti italiani partecipano alle cordate, diciamo, formative estive, sembrerebbe una cosa lontana dal problema che stiamo affrontando. Non è vero, perché se noi creiamo delle condizioni in cui la scuola viene intesa come un punto di riferimento culturale che serve a, diciamo così, a soddisfare tutte le mie curiosità, mi interessa, mi attira, ha una grande capacità di influenza nei miei riguardi, ecco qua che a poco a poco le scuole migliorano anche nell'Italia meridionale con i conseguenti risultati. Il fatto stesso è che da anni noi chiediamo che le scuole vengono aperte, pure di pomeriggio, per attività varie, cominciano ad esserci da un po' di anni dei buoni finanziamenti, vuol dire che sempre più lo Stato italiano sta capendo che la formazione e quindi anche lo sviluppo economico del nostro sud dipende in grande parte da quello che riusciamo a fare con la scuola. A volte ci sono dei docenti che lamentano una scarsa considerazione a livello collegiale, mi spiego meglio, si sentono un po' di serie B, materie, discipline, anche le stesse discipline STEM, non si sentono, docenti di discipline STEM, non si sentono adeguatamente considerati. Lei come dirigente durante la sua lunga esperienza ha riscontrato questo sentore a livello anche di genitori, a livello così di personale, oppure tutti gli insegnanti sono sempre considerati comunque sullo stesso piano, alla stessa stregua? Questi problemi esistono, ma direi che uno dei compiti del Preside è proprio quello di fare in modo che ci sia una sorta di amalgama culturale nella scuola, nel senso che non ci siano le fazioni, che non ci sia un lavoro pesantissimo da questo punto di vista, perché io continuo a dire che un buon dirigente scolastico può anche non conoscere tutte le norme, il Parlamento ne sfocia, ne tira fuori una ogni due ore, ma che ha la capacità però soprattutto relazionale, la prima cosa è la capacità relazionale sia del Preside sia degli insegnanti, del Preside ha maggior ragione, deve essere uno stimolatore di interessi, per certi versi anche un pacificatore, non sempre questo nelle scuole avviene, anche perché c'è molto, come dire, spesso molto sommovimento di vario tipo. Grazie a tutti.